Una catena umana in Germania per dire no alla violenza e al razzismo. Davanti al municipio di Colonia, abitanti e politici di tutti i partiti ieri sera hanno condannato l'aggressione a una candidata sindaco responsabile del servizio comunale per l'accoglienza dei rifugiati. Diversi partiti politici hanno invitato i cittadini a non farsi intimidire, recandosi in massa a votare oggi. Siamo qui in quanto democratici per inviare un segnale contro quest'atto abominevole, afferma la presidente dell'Anda dell'Arenania settentrionale Westfalia, Nelore Kraft. Vogliamo mostrare che tutti assieme, al di là dei partiti, difendiamo la democrazia. Enriette Reca, candidata indipendente e sostenuta da Angela Merkel, è stata pugnalata da un uomo di 44 anni mentre si trovava in uno stand della CDU, il partito della cancelliera, ed è rimasta ferita al collo. Alla polizia, l'uomo avrebbe detto, Reca e Merkel ci sommergono di rifugiati. Anche a Berlino, accendendo candele, è stata espressa solidarietà con i migranti. C'erano almeno 8.000 persone. È importante lanciare un messaggio contro la xenofobia e mostrare che vogliamo aiutare le persone che soffrono a causa di povertà e guerre. Viviamo in un paese ricco e per questo credo che ci riusciremo, come dice Merkel. In Germania, quest'anno, il numero di migranti dovrebbe raggiungere quasi un milione. Una parte dei tedeschi disapprova la politica della cancelliera, criticata anche all'interno del proprio partito.